Mi chiamo Alberto Pian e sono un insegnante che proviene dalla scuola elementare e poi è passato alla scuola superiore e ha insegnato anche nella scuola media. Ho insegnato in master universitari dove tuttora ho degli incarichi e soprattutto durante la mia carriera sono stato molto attento alle questioni didattiche pedagogiche, specialmente in relazione con le nuove tecnologie e in questo campo sono l'ideatore di tutta una serie di metodologie innovative come la didattica multicanale, lo storytelling game e tante altre che vengono applicate e sono state codificate attraverso una serie di pubblicazioni, decine di libri, centinaia di articoli che ho scritto e divulgato. Lavoro anche con aziende in questi campi, nel campo della formazione, dello storytelling, della gamification, didattica a distanza che pratico dagli anni 90, ma io penso alla fine che la creatività sia il vero motore dell'insegnamento.